Oh salve raga, oggi sono venuto a desinare in questo posticino di classe, oserei dire. Passavo di prima e mi era preso un angolino allo stomaco, mi era preso la fame, ho detto sai che va a pigliarlo in bocca. E se qui ci smangia di classe, te lo dico io. Oh questo è il coco, guardate le manualità, è un mastro coco, sta preparando lo spaghettino su pisci, alla campigiana, sulla peola. Guardate che piatta ragazzi, ti fanno delle piatta e tu ci mangi in due. Ma i pisci gli fanno a mano pisci? A vedere la pelle è buona. Ah ragazzo, come gli hai con questa pasta? Gli è buona? Tu fai da fuori il tuo orto, io sento, che voglio dire che è buona, ti do 5 mili euro. E' buonissimo. Senti come poi mi dici, è bomba, è buona. Allora giù, dammelo un piattino, vai. Comunque si vede che qui lavorano tanto perché non hanno tempo di pulire, è un segno che un ristorante lavora bene. Allora, sentiamo un pochino, vedete il sugo fatto la mattina fresco, proprio lo fanno la mattina il sugo, capito? Proprio fatto, proprio alla campigiana. Buono. Ma andiamo a bere un birrino perché mi è preso a sete. Allora, qui sulla destra, che c'è? Il macellaro. Ah, fai del macellario, carne fresca, carne fresca, la sigaretta accesa, appoggiata su tizzone. Va bene, allora, senti, una birra buona e la si può bere. Porto io per il birro buono artigianale. Dove? Lo raggio in fondo. Ma no, vai da Tremastri a bere un birrino fresco buono. Vai, digni che ti c'è un buono io. Vai, vai. Ti ringrazio. Vai io a destra e a sinistra lo vedi. Ok, vai. Ragazzi, questo è un posticino di classe. Ci hanno anche il sito. Il Galzevo, fuori per bere un birrino all'aperto. E' un posto vintage. Non ci siamo una volta, però potrebbe aspettarlo. Si vede che l'artigianale, qui c'è tre maestri birrai. Proprio, ma tre maestri, capito? Oh, ragazzi, a me mi manda quello dei fischi. Dice, c'è la birra buona qui, eh? Si fa una beuta. Guarda là, che birra. Questa è una roba di... C'è una roba di... C'è una roba di super tennis. No, non c'è la metti la tennis. E allora, niente. Che tu c'è? Fammi vedere. No, io andrei a una birra buona, non ce la faccio. C'è una fischi, il Doppio Marto. C'è una fischi, il Doppio Marto mi sa le film, capito? Vai, ok. La tennis allora non tu ce l'hai, la tennis. Comunque. La tennis non la faccio, la cambio, la cambia. Non si tratta. No, che tu c'hai, Giù? Fatevi, che tu c'hai? Guarda qui, che tu è buona, la birra buona. No, la tennis non si siene, capito. E che tu ce l'hai? E non ci sa, via. E forse ho la stella tua estraocca. Ma che buona è questa, qui? C'è un piettile che è fresco. Ma va bene, va bene. O se tu c'hai una scelessi, vai, tu due. La tondra, quando l'ho accattato, l'ho 28, io voglio solo birraia, allora. Perché la tondra è rossa, la mi dà un pochino allo stomaco, vedo, mi viene la scagaiola. E questo è un posto, quant'anni è che vuoi avere il vostro birraio? I fratelli Panerai sono sull'attività da una vita. Quanti anni inizio? Vedi, sarà vent'anni. Cazzo. Vent'anni. Venti anni. Che scoprato. E sarà solo uno. Allora fate un saluto a casa, a YouTube. Forza e... Ciao.